Il macchinario della radiologia presente presso l'ospedale civile di Agropoli è guasto dallo scorso 25 ottobre. Non basta il Covid a rallentare e bloccare tutte le attività del nosocomio agropolese, ora a far andare in affanno il PSAUT ci si mettono pure i guasti irrisolti. All'ospedale di Agropoli da settimane è impossibile fare radiografie. L'unica apparecchiatura diagnostica deputata a eseguirle è andata a KO. Il macchinario è stato smontato e smontato più volte ma a quanto pare senza dare segnali di vita. Di fatto allo stato attuale presso il civile di Agropoli è possibile svolgere solo TAC. Per il resto gli utenti vengono puntualmente dirottati verso Vallo della Lucania laddove ce ne sia un'esigenza importante, altrimenti bisognerà provvedere da sé o nella peggiore dei casi effettuare una TAC che come tutti sanno è un esame di approfondimento che comporta anche più radiazioni. Dunque ancora disagi per i pazienti interessati che si recano presso il presidio agropolese, intanto il tempo scorre velocemente mentre il ritorno alla normalità e ad un servizio sanitario efficiente è lento e sempre più lontano per i cittadini di Agropoli e non solo.